Ciao a tutte, ciao a tutti. Isogel è un prodotto molto importante che serve per tenere isolate le giunzioni all'interno ad esempio delle scatole di derivazione. Esistono bicomponenti che vanno quindi miscelati ma Wirt ne produce uno che è monocomponente. Il vantaggio è che non c'è niente da miscelare e in più lo ricevete direttamente in questo comodo formato da un chilo. È fondamentale mettere Isogel soprattutto nelle scatole di derivazione che possono essere metalliche perché in quel caso anche se la derivazione è chiusa in maniera ermetica stagna gli sbalzi di temperatura possono creare una ruggiata all'interno che pian piano vi porterebbe a fare una massa sulla giunta e quindi farebbe scattare il differenziale. È comunque utile in tutti gli altri casi perché l'Isogel vi permette di tenere al sicuro dalla polvere oltre che dall'umidità le giunzioni che andate a fare. È importante che il contenitore in cui viene fatta la giunta che può essere una scatola di derivazione o qualcos'altro sia chiuso ermeticamente perché anche se il gel sembra essere duro e pastoso come ad esempio un pongo in realtà vedrete in questo video come andrà ad autolivellarsi per essere sempre nella posizione corretta. Quindi lasciate la giunta in basso e la ricoprite di tutto l'Isogel necessario calcolando appunto come andrà a livellarsi. Vi faccio subito vedere facendo finta che il bicchiere che ho preso visto che è trasparente e comodo sia una derivazione. In fondo potreste avere la vostra giunta e voi volete andare ad isolarla. Il gel si presenta così. Si chiama gel ma è molto pastoso. Sembra quasi una pasta pongo. Vi permette di prendere la quantità giusta per il lavoro che dovete andare a fare tutte le volte. Vedete la consistenza è questa. Fate finta di avermi fatto giù la vostra giunta. Potete metterglielo ben saldo attorno. In questo caso ve lo lascio qua nel bicchiere per vedere che cosa succederà nei prossimi minuti. Faccio partire il timer e ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti. Mi raccomando mettete mi piace e condividete. Ciao a tutti.